Buonasera a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti in questo nuovo video oggi vi farò vedere come realizzare un portapenne dei Minions che è il mio personaggio preferito allora, l'occorrente è un malattolo di latta che ci sono in casa perché io voglio dei pelati dell'acrilico giallo e di un pennello colla forbici due pennarelli uno marrone e uno grigio un pezzo di stoffa di jeans e poi cartoncini colorati e poi per mettere l'acrilico dentro un piattino quindi incominciamo colorando il nostro barattolo di colore giallo quindi mettiamo l'acrilico giallo nel piattino e prendiamo il nostro pennello incominciamo a pitturare tutto il nostro barattolo ora che abbiamo appena finito di pitturare la nostra latta la restiamo ad asciugare e intanto prepariamo gli altri pezzi di Minion se il giallo non è molto carico potete fare una seconda passata quindi passiamo a fare gli altri pezzi di Minion prendiamo il nostro pezzo di jeans e delle forbici e tagliamo per fare la tutina quindi fate questo buco qua giù tanto giù le parti quindi l'ho fatto di qua ora devo fare anche di qua ok ok Questa è la tutina che poi sarà per il nostro Minions, poi voi la dovrete fare per la misura della vostra latta. Ok, ora che abbiamo tagliato la nostra tutina, possiamo creare una simpatica tastina. Ora vi faccio vedere come si fa. Prendete sempre un pezzo di soffa, di jeans, e con le forbici, con le forbici dobbiamo tagliare. Ok, e abbiamo creato anche una simpatica tastina da mettere sulla nostra sala pet per il nostro Minions. E lo attacchiamo con la colla. Ok, ora intanto prepariamo i nostri occhietti per il nostro Minions. Allora, quindi tagliamo un cartoncino bianco e creiamo degli occhietti. Quindi dovete fare due ovali attaccati, perché saranno comunque gli occhiali del Minions. Ok, ora che abbiamo fatto i due occhiali, dobbiamo passare a fare quelli di dentro, cioè proprio gli occhi. Ok, ora che abbiamo fatto i nostri occhi. Ok, ora che abbiamo fatto i due occhietti, passiamo di nuovo agli occhiali. Quindi prendiamo il nostro pennarello Ligio e li coloriamo tutti quanti di Ligio. In modo che farete il colore degli occhiali dei Minions. che è di colore Ligio. Ok, quindi abbiamo colorato i nostri occhiali di Ligio. E passiamo ai nostri due occhietti. Quindi ora togliamo il pennarello Ligio e prendiamo quello Marrone. e facciamo due palline marroni per fare il colore degli occhi marrone. Poi prendiamo il nostro tastoncino nero stavolta e facciamo due mini palline nere per fare le pupille degli occhi. facciamo le due palline dell'occhi. Questa è una, questa è una e ora facciamo anche l'altra. Ok, e con lo stesso metodo facciamo anche altre due palline così piccoline, bianche. e attacchiamo tutti i pezzi. Ah, per mantenere i nostri occhietti prendiamo il cartoncino nera e facciamo una striscia nera per fare il cartoncino dei nostri occhiali. le nostri occhiali e attacchiamo tutti. Ok, ora che vi ho attaccato i nostri occhietti. Vi ho attaccato i nostri occhietti. Prendiamo la nostra latta e il cartoncino nero. facciamo il cartoncino. Quindi, ora, con questo quattro giro nero chiediamo i piedini. Quindi mettiamo la nostra latta sopra e con un pennarello prendiamo tutta la circunferenza della nostra latta. Ok, ed è venuto il centro della latta. Quindi ora, con un pennarello, disegniamo due piedini. Ecco qua. Questo è il mio cerchio, non ti vede? Che tiene i due piedini. Ora li andiamo a ritagliare con le forbici. Ok, abbiamo tagliato i nostri occhiali. Ora, che abbiamo tutti i pezzi, i piedi, gli occhietti, la salopette, da così, di lato la tagliate in modo che la potete attaccare più facilmente. e poi con un cartoncino marrone ho tagliato una piccola e sottile bocca per fare la bocca dei Minions. Quindi ora, scegliamo tutti i pezzi. Ok, ora che abbiamo asserrato tutti i nostri pezzi, ecco qui il nostro Minions. E ora, che ci mettiamo tutte le nostre penne dentro. E ora, ed è un vero e proprio portapenne. è un portapenne molto bello, ve lo consiglio da fare, perché non ci vuole niente. E poi, è uguale al mio Minions. È facilissimo, quindi lo potete fare. Ci manca qualcosa al nostro Minions? I piedini, dimenticavo. Ora torno e li metto, fra poco. Ora sì che è un vero e Minions. E ora, vi saluto e al prossimo video. Ciao!